sono nuovi no sono lavati con il nuovo perlana jeans detersivo per i jeans si con la sua formula jop perlana jeans è più efficace di un detersivo per delicati e meno aggressivo di un detersivo tradizionale mantiene inalterati colori e protegge le rifiniture più delicate nuovo perlana jeans perlana capi come nuovi